Cerenova è dimenticata dal sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, lo dichiarano gli esponenti del gruppo Amici di Beppe Grillo che aggiungono è sufficiente osservare la bacheca informativa presente nella frazione costiera per capire quanto sia curata la comunicazione istituzionale del comune. L'importante strumento è situato dopo l'ex parco Cerelandia, a fianco della delegazione ormai chiusa da tempo ed insiste su una sorta di sparti traffico abbandonato. Superate le ovvie considerazioni sull'ubicazione passiamo al contenuto. Le informazioni sono ferme al 2010 e precisamente alla convocazione del consiglio a firma dell'allora presidente Ramazzotti. La bacheca di Cerveteri invece riporta la convocazione di luglio 2018. Invitiamo il sindaco Alessio Pascucci a desonerarci dai suoi stiamo provvedendo, evitando di offendere l'intelligenza dei suoi cittadini che non meritano questo, conclude il comunicato del gruppo.